They just unfortunately don't know how to deal with children and if anything they end up exploiting them and abusing them and then you see in the future most child stars are trying to shed off of themselves like the trauma of the industry Alexa Nicholas ha dato vita a proteste e campagne contro l'industria dell'intrattenimento dei minori per cercare di denunciare tutti gli abusi che subiscono le piccole star sia a livello fisico che emotivo e rilasciato negli ultimi tre mesi numerose interviste a podcast in cui racconta la sua esperienza su come funziona davvero il mondo dello show business Nel podcast di Victoria... ci calmiamo? Nel podcast di Victoria Garrick Alexa racconta di come sia stata bullizzata sul set di 201 da parte della sorellina di Britney Spears, Jamie Lynn Spears, che era la protagonista del programma e di come la produzione l'abbia messa a tacere e di come lei non potesse fare niente perché Dan Schneider le imponeva il silenzio Ebbene sì, siamo di nuovo qui a parlare di Dan Schneider perché sono usciti nuovi dettagli raccapriccianti su quest'uomo che tutt'oggi è ancora a libertà ed è rimasto impunito Sigla! Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè Abbiamo messo un secondino in pausa la rubrica un tè in pretura dei processi del martedì perché mi stavo ingolfando sto appunto vedendo alcuni casi, alcuni processi però mi ci vuole un po' più tempo quindi oggi torniamo con questa serie che vi piace tantissimo cioè il lato oscuro del family friendly e se giovedì abbiamo parlato della Disney oggi siamo di nuovo qui a parlare di Nickelodeon questo perché sono spuntate, sono emerse delle cose, dei dettagli da parte di Alexa Nicholas che partecipava allo show di Zoe 101 questo in veramente pochissimo tempo, negli ultimi due mesi ha rilasciato un sacco di interviste l'ultima una settimana fa quindi sono cose piuttosto recenti prima di cominciare vi lascio sotto in descrizione il link di Pamplin perché ha aggiunto nuove felpe con dei temi meravigliosi quindi vi lascio sotto in descrizione il link per accedere al sito di Pamplin e il codice sconto l'ora del tè che vi regalerà sul vostro ordine un paio di calze o calzini in omaggio ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo allora come vi dicevo nella intro Alexa ha deciso di parlare ha deciso di uscire da insomma dalla riservatezza che era diventata la sua vita perché lei appunto era uscita fuori di scena per denunciare quelle che sono le condizioni in cui lavorano i ragazzini e come sappiamo prima di guardare questo video andatevi a vedere l'episodio 2 su Nickelodeon perché oggi siamo di nuovo qui a parlare di Dan Schneider quindi se non sapete chi è Dan Schneider andate prima a guardare questo video e poi tornate qui per seguire gli ulteriori sviluppi quindi Alexa appunto ha rilasciato diverse interviste per informare il mondo su quali sono le condizioni dei ragazzini appunto abbiamo visto questi ragazzini che a cui venivano imposte delle regole insomma dovevano comportarsi come degli adulti che però venivano lasciati in preda a persone poco raccomandabili come appunto il nostro caro amico Dan Schneider che tutt'oggi è libero e rimasto impunito infatti Alexa ci darà anche dei dettagli su un particolare accordo di segretezza che le è stato chiesto di firmare riguardo a Dan Schneider che chiaramente lei ha rifiutato gli ragazzini stessi appunto venivano messi in una situazione di pericolo soprattutto per quanto riguarda appunto Nickelodeon quindi partiamo dagli episodi di bullismo di Zoe 101 perché ci fa capire come venivano risolti da Dan Schneider questi episodi di bullismo e poi parliamo di altri dettagli inquietanti che ha raccontato Alexa che vi faranno venire i brividi partiamo dall'inizio Alexa subiva bullismo da la sorellina di Britney Spears Jamie Lynn Spears nell'intervista Alexa dice questo dice il bullismo purtroppo è una cosa presente ovunque anche nelle scuole purtroppo soprattutto come sappiamo in America è molto diffuso quello che vediamo fondamentalmente nelle serie tv è quello che effettivamente succede è un vero e proprio fenomeno negativo però è un vero fenomeno sociale e Alexa dice noi avevamo però la differenza di essere vincolati con dei contratti come funzionano i contratti? cioè i contratti hanno delle penali quindi immaginatevi che tu ignaro contento e felice di entrare dentro Nickelodeon firmi un contratto per tre anni tu non puoi inadempiere al contratto perché finisci sotto legali e tu ti stai mettendo contro Nickelodeon una famiglia normale contro un gigante dell'industria lì loro erano bloccati erano imprigionati da un contratto quindi Jamie Lynn Spears lei faceva bullismo e lei è andata dai dirigenti di Nickelodeon lei dice ingenuamente io sono andata a parlare con Dan Schneider e il suo entourage la sua equip per dire questa cosa cioè del fatto che io mi sentivo bullizzata che non mi sentivo a mio agio sul set e che quindi dovevano fare qualcosa e loro le hanno fatto capire senza giri di parole che doveva abbozzare perché la produzione doveva andare avanti dicendole dicendole non ti lamentare perché questo show non si chiama Nicole 101 che Nicole è il suo personaggio ma si chiama Zoe 101 poi lei racconta appunto che siccome Jamie Lynn Spears appunto faceva parte della famiglia Spears faceva parte della famiglia Spears che era una famiglia chiaramente molto potente perché Britney Spears all'epoca era famosissima nessuno poteva mettersi contro Jamie Lynn quindi qui possiamo sollevare un punto cioè il punto è questo loro facevano queste case di produzione facevano milioni sopra questi ragazzini ma non avevano la minima idea di come trattare con dei ragazzini perché è quello che dice anche Alex dice che ci vuole ammettere uno psicologo che possa risolvere i conflitti niente cioè non se ne deve occupare la produzione se ne possono occupare degli organi competenti ma lì non c'era niente cioè nessuno sul set sapeva effettivamente come trattare con dei ragazzini quindi praticamente io sono stata due anni soprattutto nella seconda stagione di Zoe 101 in balia di questa matta che mi bullizzava che considerate comunque loro avevano 12-13 anni ma la vicenda non finisce qui racconta un altro episodio sempre di bullismo in cui addirittura la stessa Britney Spears si è messa contro Alexa e di come Dan Schneider abbia risolto questa situazione in una maniera veramente becera che infatti questo racconto mostra il vero lato brutale se vogliamo dello show business ma partiamo da oggi Jamie Lynn Spears manda un messaggio così anche per darvi un aneddoto su che pazza squilibrata sia Jamie Lynn Spears e di come Britney Spears abbia ragione a dire che anche la sorella l'abbia manipolata lo capiamo da questo semplice episodio allora Jamie Lynn Spears manda un messaggio di scuse ad Alexa e le dice guarda mi dispiace di averti bullizzato non mi rendevo conto all'epoca insomma l'ha scritto un messaggio all'interno di questo messaggio però c'era scritto anche ma perché non partecipi al video di Nickelodeon per chi non si ricordasse ne abbiamo parlato nell'episodio 2 per chi non si ricordasse che cosa succede volevano fare un reboot di Zoe 101 che alla fine in realtà era solo una trovata di marketing perché quello che volevano fare era un video musicale con tutti gli attori di Zoe 101 cresciuti Alexa aveva pubblicato una storia su Instagram dicendo che il fatto che volessero fare questo reboot di Zoe 101 le provocava dei traumi e infatti la produzione non l'aveva invitata quindi nello stesso messaggio di scuse Jamie Lynn le chiede appunto scuse e poi le dice perché dai non partecipi al video vieni quindi Alexa le viene un pochino la malizia di dire ma questa forse non è che mi sta scrivendo perché è la produzione di Nickelodeon che la sta spingendo a cercare di convincermi però dice magari ci vedo la malizia così lei le risponde con calma e le dice guarda non mi va di rivivere certi traumi in più sono incinta di 8 mesi quindi non potrei anche volendo e va bene a questo punto Jamie Lynn però si congratula con lei dice oddio sono così contenta tanti auguri posso mandarti un cesto regalo per favore voglio fare qualcosa per scusarmi ti prego ti posso mandare una cesta regalo quindi a questo punto Alexa dice ok allora a questo punto ci avevo visto male la malizia io dietro questa si vuole semplicemente scusare che cosa succede però le manda questa cesta regalo e una settimana dopo che le manda questa cesta regalo Jamie Lynn Spears pubblica il libro le cose che avrei voluto dire e in quel libro lei racconta un'esperienza sui Zoe 101 completamente diversa dicendo che lei sia stata che lei è stata bullizzata da Alexa Nicholas cioè quindi tu ti scusi via messaggio perché tu l'hai bullizzata e sapendo che dieci giorni dopo sarebbe uscito un libro in cui invece davi la colpa a lei la follia infatti anche Britney Spears ce l'ha molto con la sorella appunto per la vicenda della conservetto perché in sostanza è più lunga la cosa però in sostanza la sorella si è alleata con i genitori per chi non sapesse la storia di Britney Spears vi lascio il video che ho realizzato qui sopra infatti Britney Spears così per darvi un altro aneddoto un po' di tempo fa si è scusata sia con un tweet sia che privatamente con Alexa Nicholas per un episodio in particolare sempre riguardante Jamie Lynn e da qui poi ci ricolleghiamo al comportamento di Dan Schneider praticamente che cosa è successo che Alexa appunto subiva questo bullismo ma Jamie Lynn Spears era andata a raccontare in giro che era lei che veniva bullizzata da Alexa quindi praticamente Jamie Lynn lo dice a Britney Spears Britney Spears che all'epoca era incinta di 8-9 mesi insomma quindi era nel pieno degli ormoni si arrabbia tantissimo quindi che cosa succede che Alexa racconta che lei era nella roulotte nella sua roulotte quella tipica che sono i camerini diciamo degli studi la roulotte con sua madre arriva questo Ian che era l'assistente di produzione dedito al trucco e parrucco per intenderci che la chiamatele e dice guarda vieni con me che ti porto a truccarti a fare i capelli che tra poco dobbiamo girare invece di portarla nella parte del make up l'ha portata dentro la roulotte di Jamie Lynn Spears in cui c'era anche Britney Spears quindi lei entra tutto questo Alexa aveva 12 anni cioè per renderci conto entra nella roulotte Britney Spears chiude la roulotte a chiave Jamie Lynn Spears si va a mettere in fondo alla stanza e Britney Spears inizia ad urlare come una pazza ad Alexa di lasciare in pace la sua sorellina perché la stava bullizzando e non si fa è un comportamento sbagliato che si doveva vergognare e la minaccia che siccome lei appunto Britney Spears è una donna potente era certa che Alexa non avrebbe mai recitato più da nessuna parte perché lei l'avrebbe fatta fuori da qualunque produzione cioè voi immaginatevi a 12 anni ad essere minacciati dalla più grande star del pop di quei tempi di non lavorare mai più perché lei si sarebbe messa contro tutte le sue produzioni cioè tutto questo a 12 anni insomma non è proprio una scena bellissima ed è per questo che poi Britney Spears le ha chiesto scusa scrivendole appunto un messaggio in privato che poi Alexa ha ricondiviso in sostanza il messaggio di Britney dice questo ho il cuore infranto dopo aver visto la tua intervista sull'esperienza che hai avuto nello show business Hollywood è un luogo da sogno ma siamo onesti solo in rare occasioni ci sono persone che escono alla luce e condividono il lato scuro quindi poi continua dicendo che lei la ringrazia per tutta questa consapevolezza che sta diffondendo su quello che c'è dietro lo show business sappiamo che comunque Britney Spears è anche rimasta intrappolata diciamo in queste dinamiche e infatti dice di essere rimasta colpita da una frase che ha detto Alexa perché Alexa in un intervista ha detto se potessi tornare indietro e parlare con la me 12enne le direi in qualche modo di andarsene cioè di non rimanere in quegli schemi perché la salute personale è la cosa più importante e Britney Spears infatti riprende questa frase e dice se potessi tornare indietro mi sarei detta vattene scappa dallo show business e dalla tua famiglia prima della conservatorship poi è arrivata la conservatorship e tutto è diventato impossibile perché io sono finita in prigione poi si scusa per l'episodio di quando lei ha urlato e si giustifica dicendo che era il nono mese di gravidanza con tutti gli ormoni eccetera e che Ian le aveva detto che sua sorella piccola stava subendo episodi di bullismo e non ci ho visto più perché io le facevo anche da madre quindi sono scattata quindi si scusa e lancia una frecciata alla madre dicendo che sarebbe stata sua madre a doversi intromettere e parlare con calma e non una donna incinta di nove mesi che doveva solo avere tranquillità invece la stavano facendo preoccupare tantissimo con questa vicenda ma sua madre era troppo impegnata a godersi i soldi che Britney Spears faceva guadagnare a tutta la famiglia piuttosto che fare la madre e si è resa conto che quindi anche la sorella in realtà l'ha sempre manipolata da quando era piccola cioè che quindi lei è stata manipolata da tutta la famiglia Alexa l'ha riconosciuto ho detto sentendo l'audio i racconti che sono usciti dopo la fine della conservatorship ho capito ho interpretato quell'episodio e non ce l'ho con Britney Spears e quindi la perdono però a questo punto perché vi sto raccontando questo che cosa succede che una volta finito questo episodio lei e Alexa torna nella sua roulotte tutta piangendo tremando e inizia a vomitare nel bagno tant'è che la madre si agita perché poi Alexa non parlava non diceva che cosa aveva fatto e la madre inizia a strillare come un'isterica fuori a dire che qualcuno venga qui che qualcuno venga qui insomma si è messa ad urlare quindi è arrivato Dan Schneider è arrivato Dan Schneider con un altro paio di produttori della Nickelodeon praticamente vede Alexa in posizione fetale tutta rannicchiata ripeto una ragazzina di 12 anni tutta rannicchiata in bagno impaurita la guarda e le fa che è successo adesso cioè con una faccia come per dire che cosa hai combinato adesso quindi Alexa alla fine riesce a parlare riesce a spiegare tutto e Dan Schneider fa si gira e se ne va dopo 5 minuti torna con un lettore DVD di Spongebob e le dice guardati qualche cartone animato vedrai che ti passa e se ne va dice e muoviti perché devi tornare sul set cioè quindi capite da questo racconto che per me è stato agghiacciante come questi produttori non sapessero minimamente trattare con dei ragazzini cioè non ci vuole vabbè sì che Dan Schneider diciamo che voleva trattare con dei ragazzini a modo suo ma loro trattavano questi ragazzini come se fossero adulti ma in realtà erano soltanto degli adolescenti quindi è normale che abbiano delle reazioni determinati tipi di reazioni che poi io avrei quella reazione se Britney Spears mi urlasse adesso quelle cose quindi voglio dire non c'entra neanche l'età a questo punto ma venivano veramente trattati con freddezza cioè erano degli adulti che non sapevano come trattare con dei ragazzini però pretendevano che questi ragazzini si comportassero da adulti e ci facevano i milioni sopra parliamo di dei dettagli di altri dettagli e qui arriva la parte con i brividi ragazzi preparatevi di altri dettagli che sono usciti su quell'uomo schifoso e inquietante allora nell'intervista si è parlato anche dei filmati di cui abbiamo parlato sempre nell'episodio 2 quelli prevalentemente di Ariana Grande Alexa dice chiaramente che anche lei ci ha visto delle vere e proprie allusioni che non ha dubbi però qua fa anche un discorso che secondo me ha senso nel senso che lei dice facciamo finta che gli crediamo a Dan Schneider perché Dan Schneider dice io Dan Schneider si è sempre giustificato dicendo no io siete voi che ci vedete il marcio io non ci vedevo niente non era mia intenzione cioè lui diceva sempre questo quando poi l'hanno cominciato ad accusare del fatto che facesse dei filmati un pochino strani con queste ragazzine no però Alexa dice facciamo finta che veramente lui non avesse questo tipo di intenzione e lei dice però tu se maneggi dei ragazzini ti devi rendere conto di quello che può percepire il pubblico cioè tu non devi guardare alle tue intenzioni devi guardare alle intenzioni del pubblico e infatti Alexa dice che un suo fan chiaramente in sorta di denuncia non per diciamo per farglielo vedere però ha mandato un link in cui quei video di Ariana Grande sono finiti sui siti di contenuti espliciti per minori quindi capite che la cosa è raccapricciante anche perché se ci pensate quello che dice anche Alexa è che già quei video di Ariana Grande non c'entravano niente con la storia ma tutti quei video erano dei cameo cioè erano delle cose delle cose al di fuori della serie che venivano caricati da Nickelodeon su YouTube quindi delle vere proprie webcam di ragazzine cioè allucinante ma la situazione non finisce qui perché racconta un'altra cosa allora come funziona quando in un set di tutti i film si scelgono i costumi di scena tu vai nella parte dei camerini con gli stilisti ti metti i costumi di scena poi lo stilista ti fa una foto ti fa delle foto polaroid da mandare alla produzione per approvare i costumi di scena se i costumi sono approvati si può iniziare a girare altrimenti si cambia funziona così Dan Schneider però di farsi mandare le polaroid lui si metteva col suo sgabellino racconta Alexa col suo sgabellino attaccato al camerino quindi si separava da Dan Schneider alla ragazzina barra ragazzino di dieci anni dentro soltanto una tenda quasi semi trasparente e lui voleva vedere dal vivo tutti questi ragazzini che si cambiavano tant'è che Alexa poi nel corso degli anni si è resa conto perché dice allora innanzitutto i vestiti che portavo a Zoe 101 le gonne erano cortissime tant'è che i ragazzini sotto le gonne le ragazzine scusate sotto le gonne portano solitamente dei pantaloncini da ciclista avete presente perché appunto così insomma non si scopre nulla diciamo così ma le sue gonne erano così corte che hanno dovuto tagliarle i pantaloncini da ciclista perché altrimenti si sarebbero vissi sotto le gonne Dan Snyder non si perdeva neanche mezzo cambio suo e di altre ragazze cioè lui si metteva si sedeva lì cosa che non si fa nelle produzioni perché si scattano appunto queste polaroid si sedeva davanti al camerino appiccicato tant'è che Alexa dice potevo sentirlo quasi respirare la sedia che scricchiolava come lui si muoveva e guardava tutti i cambi di vestiti e poi chiedeva comunque agli stylist del camerino di scattare delle polaroid che poi lui si teneva e che cosa ci faceva con queste polaroid possiamo solo immaginarlo e infatti Alexa dice quando poi sono andata a fare altre produzioni al di fuori di Nickelodeon la prima cosa che ho pensato ho detto ah ma quindi i produttori non devono stare davanti al camerino a guardare noi che ci cambiamo ma la cosa non finisce qui perché nel 2019 Alexa viene contattata dall'avvocato di Dan Snyder per farle firmare un accordo di riservatezza la chiama e le dice che cosa sai di Dan Snyder che cosa ti ha fatto e Alexa le risponde non sono affari tuoi e lui le dice ti andrebbe di venire qui nella città insomma dove stava Dan Snyder per firmare un accordo di riservatezza non ti preoccupare sarete in una stanza solo tu e lui e Alexa ha detto ma io in una stanza con quello non ci vado e come funzionano questi accordi di riservatezza ha spiegato ha detto che non solo tu se lo firmi non puoi raccontare nulla ma addirittura non lo puoi raccontare neanche al tuo terapista cioè se tu per esempio metti caso subisci un abuso ma hai firmato un accordo di riservatezza non solo non puoi dirlo al mondo ma non puoi neanche non ti puoi neanche far aiutare per farti curare perché non lo puoi raccontare neanche al tuo terapista cioè è una cosa agghiacciante quindi quello che possiamo diciamo carpire dall'intervista di Alexa Nicholas che appunto ci smonta sempre di più un mondo meraviglioso finto che noi pensavamo appunto fosse meraviglioso due cose la prima appunto è che questi ragazzini venivano trattati in maniera fredda come degli adulti quindi la gente che lavorava sui set di queste grandi produzioni non aveva la minima idea di come trattare con dei ragazzini secondo nonostante questo come avete giustamente detto tutti voi nei commenti però comunque questi ragazzini poi li lasci in mano a dei predatori cioè tu ti preoccupi che questi ragazzini si comportino bene non facciano scandali siano tutti perfetti eccetera eccetera e poi però non controlli invece quelli che lavorano nella produzione infatti dietro a Dan Schneider che ripeto è ancora rimasto impunito che l'odio non ha lasciato mezzo comunicato per dire ops scusate ma Dan Schneider oltre a essere ancora libero aveva dietro un sistema di omertà grandissimo perché c'era gente che sapeva e che lo copriva e poi c'erano gli altri lavoratori che potevano essere il cameraman nell'assistente di produzione anche solo quello che reggeva il microfono che magari lo sapevano ma non potevano parlare perché loro stavano cercando soltanto di portarsi a casa la pagnotta e quindi si è formato questo grande sistema omertoso in cui lui ha potuto agire indisturbato e nell'altro video abbiamo visto tutto quello che ha combinato e questo è tutto gente noi ci vediamo giovedì per il prossimo video quindi vi auguro un buon martedì sera e a giovedì ciao